cooked helà salve a tutti sono IikaDrib hembe nuova puntata di a lo episodio 2 scher Install la regola scerza aeree adesso è solo tra le macchie e le macchie allora la regola è senza aeree e si dice la guerra, siamo sempre noi quattro via senza guerra senza aeree quindi ora vedremo che è veramente l'amore l'amore vediamo il marino il marino non c'è una cacata non c'è una cacata ho messo la cosa a causa di lui è più che la morte di Michele tu hai chillato Michele con la macchina io lo scemo che boh che è quello che sta sul corpo di Michele no, è ucciso che è quello che è ucciso questo è qui oh, questi sono di questi questi sono noi questi sono i nostri che riii sono troppo che suoniamo ok dove cavolo? non mi trovo più i baciuga i baciuga guarda 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 si 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 che volo è andato tutto si ecco no 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 mi sono scappato qualcuno mi ha vissuto dove sto andando è no 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 è addio ahahahah quattro che mi ha detto di me Ti dico la tua roba E di qui Vai Quella macchina si fa E vai Vai Sapete la meglio mio fratello per le macchine Vai Spiegami Io Ucciso Ho ucciso io uno E vai Lo è spesso con la gomma Yeee che incoraggio di ispirarvi con la gomma Sono veramente forse quei ragazzuoli Mi ha affattato Viena Che sto che sto che sto 10 minuti rimanenti Yeee il video voglio che dura 6 Eccoli Ti prendi la macchina Chi è quello buono ora qua Sono tutte quattro con le macchine Da Se siete buoni Vievolo a nero E tu a lei Io ho la macchina L'ho conquistata mio fratello L'ho ucciso Io sta arrivando a questa velocità Ma io No No Uccidilo Da pensare che La facilifica Vai dentro Uccidilo Se qualcuno ti ha ucciso Ah qualcuno Ma Mabbo No Ma qualcuno ti ha ucciso Io Mi sono Il fucido Per salire In questa bella macchina Nooo Vai Nessuno Riusci da salire Dico la macchina No 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 Mottola fanno ma c'è una macchina mi stanno qua io i due sono un nero mi dà tu un passaggio ok ehi ciao vuoi fare conoscenza ok ma ti chiami? ahhh ma cazzo via quell'altra oh 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 a tu chi è facendo ci? io ragazzi dal prossimo episodio faremo le squadre 2 episodio ahhh ehi il primo rizzo ne vince ehi su chissà chi vincerà in questa partita nooo tu l'esplosione attacca quello no yeee l'ha uscita piccola con l'imbagiuga no perchè sono uscita dalla macchina che è uscita con l'imbagiuga? ci basta rivedere pure in video pochi stiamo perdendo stiamo partendo me scegliamo me scegliamo nel diritto a me scegliamo mi sta spirito ci vediamo che ci si portando stiamo facendo la guerra un video via si prende l'aereo e vede qualcuno sulla base dell'aereo quindi mi metti a distruggerla no ma va a qualcuno no 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 me l'ho sfondato dammi la mia svevita ma no che so se la foca maschina mi ha detto che non ha preso l'aereo no no è giusto la base ma che cavolo come fa dichi che l'è ma mi ma c'è l'esercito di qui chiudi oh che vuole che vado da qua boh veal come è fatta a segnalare la macchina ma lì te che ha fatto un'altra volta ok i conti malati per bene qui è il primo nabo che viene a muore yeeeh la gel david che è morta comunque ragazzi questi episodi mi caricherò tutti i catturati se internet vuole quindi domandiamo stasera blocchiamo con il numero di cellulare domanda se la connessione internet mi fa scaricare i video ho preso una cosa sono invincibile per un po ho un'armatura in più chi ha preso l'aereo? ehi dove? david che accordo dal terzo episodio non partecipa nooo ha il fresco la regola no io sto andando su una cosa non mi interessa mi ha ucciso brutto vai 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 trovo lì secondo te l'altra adesso tutti gli alleati contro il cesso perchè è l'aereo adesso no non ce l'ho più l'ho lasciato e me l'hai presa per il secondo quindi per il secondo quindi per il secondo tutti gli alleati andrà all'attacco ma l'hai che l'uso qui è? qui da dentro l'ho pronto adesso ok è morta adesso cosa mandare? vedi una macchina? oh vedi una macchina 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 ma tu non mi racionma in mannuna adivantos i عito ma io mi capasco sono ma io mi saluto nooo vedi uno vedi uno che duciso vedi uno 4 che casino ragazzi no 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 che finita la mano con l'arma si è nata abbiamo preso di mira uno è il nostro cerveazzo il nostro cervello il 6 cazzo 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 certo tutto tranquillo troppo tranquillo io ci do uno con l'angiafiamme e con l'angiagranate pure un altro ho fatto la macchina e vai se si combina così è buonissima qualcuno mi ha spaltato io sali in macchina ragazzi ti vedoò di via mamma mia che buono qua stesso un'astolica è chi è così mamma non è un'astolica chi è l'astolica eh chi è l'astolica chi è l'astolica qui è la macchina chido se no io forse se stava ma non lo stiamo puntando Voleva mettersi contro le due, ma andiamo in quanto tempo. No, sono arrivato il testo con la bacchina, sono arrivato il testo con la bacchina. Dov'è? Ma non è il testo con la bacchina, ma non è il testo con la bacchina, ma non è il testo con il testo con la bacchina. E vai! E tu non vissuto con l'auto! Dov'è David's testo? David's testo non mi parla una specchina? Io me lo scendo! Me lo ho vissato la bacchina! Io me lo scendo che tra poco muore qualcuno. Eeeh! Perché muoresi tu? eh, vabbè, però ora prendo l'aereo, non me ne frega niente non me ne frega niente, non me ne frega niente se non gioco all'altra partita però... ahhhh non gioco l'aereo non gioco, ne ho scherzo in acqua aia, aia che è il bambino oh, non vale con l'aereo? no, che so perchè la regola lo dice vuoi fare l'ingame? bellissimo chi ha l'ingame che hanno preso dopo la macchina? prima ho chiamato l'aereo perchè ti voglio bene si, si, no, no e che vuoi, prendo la testa e la forza c'è non fa senso si, secondo me perchè la regola lo impresso ormai chissà con la tastica? io sa piedi ma ecco Michele, Michele è preso, è invisibile invisibile? ma tu no 12 giorni con un colpo di madruga cazzo vedevo una invisibile mamma mamma forse non lo so non so come faceva a vedere quella invisibile comunque ho un cannone a pontone cazzo c'è qualcosa di difficili io ho un cannone a pontone io lo vedo con l'auto eccolo si è andato in azienda si è andato in azienda ohhhh si è andato in azienda ma è sempre la freccia con l'auto ehi lui stia capoppa sale sulla tua minigum stia 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 ma Michele? devo uscire da lì cosa è? devo uscire da lì perché? stia non è stia vabbè mooi oh sei vabbè non capisci ucciso uuuuuh uuuuuh yeah tanto per questa puntata è tutto nooo tanto per questa puntata è tutto e ci vediamo nel prossimo video salutate ciao ciao ragazzi ciao